Un cordiale saluto di una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandici e Barberino, in direzione Roma per incidenti e rallentamenti tra Valdichiana e Chiusi. L'area di servizio di Badia Alpino Ovest in direzione Roma per un guasto all'impianto non è fornito di carica batterie per auto elettriche. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Mare, restringimento di carreggiata. La viabilità cittadina a Firenze per un incidente, rallentamenti e restringimento di carreggiata in Viale Volta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!